Cosa amo di più del mio lavoro? Stare a contatto con le persone, perché ascoltarle mi ha insegnato molto. L'esperienza dei consulenti Findomestic nasce dall'ascolto di ogni cliente, per questo ti consigliamo sempre la soluzione più adatta. Ad Anna e Luca ho proposto come voglio, il prestito personale flessibile. Potete cambiare rata anche ogni mese, senza costi e in modo semplice. Puoi avere 14.000 euro con una rata mensile di 195 euro. Vieni in Findomestic o chiamaci all'848 80 40 40. Findomestic, più responsabili insieme. Vieni in Findomestic.